Ciao a tutti da Saridor e bentornati su Simba the Cat! Allora, in questo episodio il nostro Michu affronterà Roadcat Sì, un circuito privato dove il nostro Michu affinerà le sue abilità di guida già perfette di suo Non ce n'era assolutamente bisogno Però ogni tanto i supereroi devono spendere qualche soldo anche loro per far girare l'economia E alla fine, a fine video, qualcuno ci ruberà pure il camion Ma non aggiungo altro, buona visione Michu! Oh, Simbetto, Simbetto che balla Ma come stai? Quanto tempo che non ci vediamo Oh, caro, si Simba? Ecco Compari di nuovo Oh, sopra le tue arrecchie vedo il nuovo livello Westerker Cioè, che cazzo sto dicendo? Cat Cars Vediamo un po' com'è, va? Andiamo a dare un'occhiata? Oh! Guarda qua che parco auto niente Ma a parte la Smart Oh, e ci abbiamo anche il camion Ci abbiamo di tutto Ma che è? Ok, livello quello delle moto Non lo ricordo Ehm... Prevedo bestemmio, prevedo tanti porchi, eh? Un po' vedere qua cosa abbiamo La Smart Cacchio, è la Brabus Abbiamo fatto un po' di tuning? Ok Oh Questa mi sembra un BMW Boh, non lo so, sono tutti uguali, ora come ora Niente male Bellina questa Bella che è questa Oh, il Porsche Abbiamo un Porsche Abbiamo questa che non la riconosco Questa è la classica cabrio Questa deve essere maleducata come non mai Oh, eccoli qua Ciao signori, come state? Ah, ok Posso scegliere quale personale Non me lo facevo fare Devi metterti proprio davanti a loro Ci abbiamo anche questo? No Ci abbiamo anche il camion Ok, no Potrebbe essere deleteria la cosa Io lo dico Scendi Simba Va che è meglio Accontentiamoci della macchinetta Allora, io direi subito di partire con questa qua Ok Dai Simba, dai Ho dovuto abbassare un po' l'audio Perché altrimenti non si sentiva un cazzo Minchia come va Porca Eva come va Come viaggia Guarda come va Ok Simba Abbiamo appena perso i pezzi Va bene, noi andiamo, dai Mamma mia come fila Ok, 4 l'abbiamo preso Abbiamo sfasciato tutto Penso di sì Eh Sì Dai L'abbiamo sfasciato abbastanza E tra parentesi Wow Che interni Ok Vedo la chiave miciosa Prendiamola subito Miau Ok Anche l'altro polletto Simba Stiamo perdendo i pezzi Non volevo dirlo Oh Abbiamo trovato anche l'uovo Wow Ottimo E siamo a 40 più 2 42 Sono le crocche E Ah no È il paraurti È il paraurti Che ci abbiamo lasciato prima Quanto fa sta macchina Per curiosità Voglio vedere 290 300 Uh No Mi sono distratto Vabbè Continua Continua Simba Continua Oddio Favoloso Non ce l'abbiamo fatta Simba Abbiamo fatto Un casino Va benissimo Così Ok Vediamo cosa succede Finira malissimo Lo so Beh dai Pensavo peggio Pensavo Molto Peggio Oddio Geniale Ok Voglio vedere Come va a finire Finirà malissimo Lo so Ok Sì È finita malissimo Ma va bene È lo stesso Macchine ne abbiamo Delle altre Ok Va bene così Come fa a andare ancora Sta macchina Piccolo pollo Io ti vedo Vieni da me Oh Minchia Che musata Questa qua È la macchina Della domenica Per andare a comprare Il pane 170 All'ora E siamo Già sulle uova Tra parentesi Mi hanno dato Una smart Come macchina sostitutiva Ragazzi Un incubo Un incubo È appunto Più o meno Come questa No No Non sta in strada Sta macchina Paura Tra parentesi Che dettaglio Che ha Ma tutte Hanno dei dettagli Favolosi Dai Su Muoversi Muoversi Pesta Sul pedale E lui Pesta anche Ma se non va Dai Su Che io ne ho Uno uguale Ma la mia va di più Ok Vai Simba No Simba Non così Simba Non così Vabbè È lo stesso Però ha quattro ruote Motrici Ok La chiave No Le crocche Ok Non doveva Finire così Simba Ma vabbè Allo stesso Dai 200 Ci è arrivata Ok Salta Vola Ma Bellissimo Il Sub Della Pula No Cammina Cazzo Ah 200 Ci arriviamo No Non ci arriviamo Non ci arriviamo Perché facciamo così No Simba Ok Va bene Dai Guarda Tutta spazzolata Se la fa No 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 Non Non gira Oh Sì Ma Cacchio No Fermati Ok Sì Ma Ottimo Nel Rettilineo Non so Come abbiamo Fatto Ma ce l'abbiamo Fatta Sì Cammina Poi Fa tutto Da sola Va bene Sì Ma Dove siamo Finiti Ok Perfetto Va Benissimo Però Siamo dritti Dai Stiamo perdendo Una marmita È uguale È uguale Non serve Siamo a 3.30 Minchia Ecco Arriviamo lì Ci fermiamo Disastrosamente Vabbè Cosa abbiamo appena fatto Ok Dai Prendiamo tipo tutto Adesso Io non ho ancora capito Cosa sono Sti cosi qua Vabbè Aia Bastardo Dannei colpi Dentro E basta Oh Eccoli qua 95 96 E 100 Polli E abbiamo Trovato Praticamente Tutto Ottimo Simbetto Vai Simba Perfetto Perfetto Ok Diciamo che questo Non è propriamente Il mezzo adatto Però va bene Lo stesso Dai Ah Simba Ah Ma non guidavi Tu Ah Ok Allora ho capito Ho capito Tutto Va benissimo Ok Torniamo alla cat cave Mi riprendo Simba Mi scusi Abbiamo trovato tutto Crocche Uovo Chiave miciosa I polli 100 polli E una valanga Finita di pesci Penso tutti quelli che c'erano Forse ne ho lasciato Uno o due Ok Dai Il prossimo è Asteroid Cat E Sì Devo sempre rifare Dove cacchio eh Dog And Cat Eccola là Sì Te balla Simba E ok Dai Bravo Simba Bravo vizio Ce l'abbiamo fatto anche stavolta E ok Per ora Fermiamoci qua Abbiamo potuto constatare Che Donna al volante Pericolo costato Dicevo Che il nostro Simbetto Ha riuscito a trovare Tutti i polli La chiave miciosa Eccetera Eccetera Ok Il prossimo episodio Non ho visto cos'è Non me lo ricordo Ma sarà un'altra cosa Demenziale Assolutamente Sì Comunque Se il video vi è piaciuto Mettete like Condividete Iscrivetevi al canale Fate un po' il cazzo che volete Tanto ormai lo sapete E noi se vorrete Ci vedremo in un prossimo episodio Ciao ciao Ciao